Da sempre col cuore per il cuore, Humanitas Mater Domini è accanto alla salute dell'organo più importante del nostro corpo e il territorio risponde presente. Circa 200 partecipanti alle cardiologie aperte che hanno visto gli specialisti dell'ospedale di Castellanza e dei centri medici Humanitas Medical Care scedere in campo con consulti gratuiti e incontri per tenere monitorati valori e potenziali rischi. Purtroppo ancora oggi in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte, essendo responsabili di bene il 44% dei decessi con una prevalenza che è superiore alla media europea. I dati della nostra provincia, la provincia di Varese, sono in linea con quelli nazionali con un'incidenza di malattie cardiovascolari che ha un trend in lieve aumento nell'ultimo quinquennio sia nel sesso femminile che nel sesso maschile. Cardiologia aperte fa da ideale su giallo al calendario di iniziative, tra le quali spicca l'evento incentrato sulle aritmie con lo specialista Massimo Tretto, responsabile elettrofisiologia ed elettrostimolazione del Cardio Center di Humanitas Mater Domini e il divulgatore scientifico e food mentor Marco Bianchi. Pensate alla fibrillazione atriale che aumenta di circa 5 volte il rischio di ictus, aumenta le ospedalizzazioni, quindi i costi sociali e riduce la sopravvivenza dei soggetti che ne sono affetti. Aritmie ventricolari maligne, alcune di queste, sono responsabili nella maggior parte dei casi della morte improvvisa da arresto cardiaco. Fondamentale il ruolo divulgativo, perché oltre a sapere, bisogna far sapere. La conoscenza fa la differenza, quindi è importante, è veramente fondamentale poter conoscere per evitare, per fare prevenzione, per prevenire. Humanitas Mater Domini resta un ospedale che da oltre mezzo secolo è accanto al territorio e con un cuore pulsante, è proprio il caso di dirlo, riassunto nel suo Cardio Center. Grazie al lavoro integrato dell'equipe di cardiologia, di elettrofisiologia ed elettrostimolazione, con oltre 22.000 visite ed esami cardiologici eseguiti e più di 1.800 ricoveri, il Cardio Center si occupa della salute del cuore dei pazienti a 360 gradi, dalla prevenzione alla diagnosi, dall'attività ambulatoriale all'eventuale ricovero.